Bruno Gröning Io voglio solamente aiutare e guarire. La vita di Bruno Gröning per bambini, giovani e adulti. Prefazione Cari giovani lettori, poiché state tenendo in mano un libro su Bruno Gröning, sicuramente non vi aspettate altro che la verità. La verità su e intorno a Bruno Gröning, verità che è di inestimabile valore per tutti gli uomini. La verità è ciò di cui ogni uomo necessita per sé, per la sua esistenza e permanenza su questa terra. La verità si affermerà e la verità diventerà realtà. Questo libro sulla vita di Bruno Gröning vi racconterà ciò che questo piccolo uomo di Danzica ha vissuto e sofferto, ciò che ha fatto e chi lo ha perseguitato. Bruno Gröning era un uomo che, anche se era ormai adulto, diceva di sé, io sono solo un bambino. Esattamente come i bambini di oggi si trovano in difficoltà nel difficile mondo degli adulti, egli subì le stesse difficoltà durante tutto il corso della sua vita. Si rifiutò sempre di accettare la durezza e l'insensibilità del mondo. Egli lottò affinché gli uomini mantenessero vivi i sentimenti come la compassione, la carità e l'amore verso il prossimo, affinché perseverassero sulla via divina e su quella angelica. Bruno Gröning possedeva questi sentimenti e non se li ha fatti sfuggire. Si è sempre battuto per tutti coloro che li avevano perduti, per dar loro la possibilità di riconquistarli. Per conseguire tutto ciò egli dovette liberare di nuovo il cammino, quel cammino che era stato ostruito, il sentiero divino ingombrato da rovi e sterpaglie. Il contatto celeste era stato interrotto e doveva essere allacciato nuovamente. Per gli uomini egli dovette ricostruire il ponte che riconduce a Dio per riportarli indietro, dalla via del dolore, al sentiero divino. Non fu facile. Ciò scatenò molte forze contrarie al suo progetto e ogni sforzo venne utilizzato per distruggerlo. Bruno Gröning però non si lasciò sopraffare, andò dritto per la sua strada e liberò la via a tutti gli uomini, la via della salute, della gioia e della fiducia. Se voi, giovani lettori, leggerete questo libro con attenzione, se seguirete la storia di Bruno Gröning e se accoglierete la sua vita nel vostro cuore, riconoscerete il motivo per cui Bruno Gröning nacque, per portare il bene all'umanità, il divino e risvegliare la fede, la forza persuasiva, in modo da ristabilire il contatto fra Dio e gli uomini, il ritorno all'amore, alla pace e alla beatitudine. Io vi auguro che possiate vivere tutto il bene che Bruno Gröning ebbe a dare e che tuttora dà, che lo riconosciate con occhi guardinghi per poter schivare ed evitare il male che si pose con forza sul cammino di Bruno Gröning, che accogliate in voi tutto ciò che è divino e sublime, che nell'opera di Bruno Gröning si manifesta e che la verità e la purezza vi illuminino. Tanti auguri. Thomas Icke Io sono e rimarrò un bambino. Non cambierò. E voi tutti, ognuno di voi, potrà credere ciò che vuole. Io sono e resterò un bambino. Ma molti uomini non sono più bambini. Sono diventati degli adulti. Capitolo primo Infanzia e giovinezza Bruno Gröning nacque il 30 maggio del 1906 a Danzica, che si trova nell'est dell'Europa, sul mar Baltico, circondata da grandi foreste. Oggi Danzica appartiene alla Polonia, ma allora era una città tedesca. Quando nacque il piccolo Bruno, i suoi genitori avevano già tre figli. Dopo di lui ne nacquero altri tre, per cui egli fu il quarto di sette figli, esattamente a metà. I suoi genitori erano delle persone semplici, suo padre August era un muratore e la madre, Margarite, proveniva da una famiglia di artigiani. Fin dalla tenera età, i suoi genitori notarono che Bruno era differente dagli altri figli. A volte, quando il padre rincasava, imprecando e sbraitando, dalla camera del piccolo Bruno si udivano improvvise grida. Quando i genitori spaventati si recavano nella sua stanza, tutto era silenzioso ed il piccolo giaceva tranquillo nella sua culla. Comunque il padre smise di imprecare e in casa si comportò ben presto in modo silenzioso. Questi ed altri fatti sembravano alquanto strani e lasciavano genitori e fratelli sorpresi e meravigliati. Più cresceva e più Bruno pareva strano agli altri. Ben presto diventò un tipo considerato così singolare da meritarsi l'appellativo di pazzoide. Un avvenimento singolare Scansato e respinto dall'insensibilità e dalla crudeltà del suo ambiente, il piccolo Bruno si rifugiò ben presto nella natura. Si sentiva più attratto dagli animali, dagli alberi e dai cespugli che dagli esseri umani. Spesso scompariva per giorni interi nel bosco vicino a casa. Una volta scrisse a proposito della natura «Quì io sento la presenza di Dio in ogni cespuglio, in ogni albero, in ogni animale, perfino nelle pietre. Posso rimanere immobile e assorto ovunque, per ore ed ore, e non esiste per me alcuna concezione del tempo. Ho sempre la sensazione che la mia vita interiore si espanda all'infinito». Naturalmente i suoi genitori non comprendevano tali escursioni del figlio e quando, dopo giorni trascorsi nel bosco, veniva acchiappato e riportato a casa, le prendeva di santa ragione. Dopo un po' di tempo, non resistendo più in casa, scappò nel bosco per pregare Dio. Non aveva voglia di rimanere su questa terra e a questo proposito diceva «Dio, perché mi hai mandato qua giù? Io non voglio più rimanervi. Qui percepisco solo male. Non può essere così. Non voglio più rimanere qui». Dio padre allora gli rispose «Tu hai visto le difficoltà, la miseria e i dolori degli esseri umani e hai voluto aiutarli. Tu mi hai pregato di farti scendere sulla terra per liberarli e io te l'ho permesso ed ora ti trovi lì». Il piccolo Bruno aveva solamente due anni e mezzo conobbe così il motivo della sua presenza sulla terra e quale fosse il suo compito. Allora un'idea balenò nella sua testa. «Non sono forse anche gli uomini i miei amici. Perché allora fugo sempre da loro? Gli animali sono intimoriti dalla cattiveria degli uomini ma io non ho paura perché io sono più forte del male. Voglio dimostrare a tutti gli uomini che sono più forte». «Tu non sei più ammalato». Che cosa lui intendesse con «Io sono più forte del male» fu ben presto chiarito. In sua presenza guarivano gli animali come pure le persone. Una volta spiegò così come vi riuscisse. «Di nuovo mi balenò un'idea proprio mentre mi trovavo davanti ad una persona malata. Dal corpo di alcuni animali malati la malattia era scomparsa quando io sottovoce dicevo «Caro animaletto, tu riavrai presto un corpo sano». E così avveniva. «Per gli uomini dunque non può essere diverso» mi disse. Quando questo pensiero si fissò nella mia mente anche il corpo di un uomo si liberò da ogni malanno. Fui così sempre più attratto dalle persone malate e in ogni casa in cui improvvisamente comparivo c'erano sempre delle persone ammalate alle quali ripetutamente dicevo «Tu non sei più ammalato». Quando alcuni di loro dicevano di essere sul punto di morire io rispondevo brevemente «No, tu non morirai di certo anzi, presto guarirai». Presso ogni ammalato mi soffermavo solo brevemente il tempo di avvicinarmi e di dire appunto ciò che ho appena accennato. Dopodiché scomparivo velocemente. Durante la Prima Guerra Mondiale egli visitò frequentemente i Lazzaretti qui giacevano molti soldati feriti in guerra. Il piccolo Bruno diventò ben presto un loro gradito ospite e i feriti in sua presenza si sentivano molto meglio e molti di loro guarivano. In un suo cenno autobiografico scrisse di quel periodo durante l'infanzia la prima giovinezza che trascorsi nella casa paterna mi resi sempre più conto delle straordinarie capacità che da me scaturivano che avevano il potere di esercitare un influsso calmante e benefico su animali e uomini. Fin dalla teneretà con la sola mia presenza a persone malate scompariva qualsiasi disturbo e ai bambini alle persone adulte turbate, agitate o coinvolte in litigi bastavano alcune mie parole per calmarsi completamente. Ero ancora bambino e potei constatare che animali considerati normalmente feroci o aggressivi si dimostravano invece con me docili e mansueti. Per questa ragione i rapporti con la mia famiglia divennero tesi. Di conseguenza la mia tendenza fu quella di cercare la completa autonomia per allontanarmi dall'ambiente di incomprensione della mia famiglia. La sottomissione a Dio A nove anni Bruno si ammalò di disenteria rossa una grave infezione intestinale di cui a quel tempo molte persone morivano. Dimagrì paurosamente e giacque a letto per settimane con la febbre. I genitori erano disperati e il medico non sapeva più che fare. Non era più in grado di aiutare il ragazzo tutti pensarono che sarebbe morto. Più tardi raccontò così ciò che avvenne in quel periodo. dormi per un anno intero senza un indumento addosso sulla nuda terra assetato ed affamato. Il mio corpo era ridotto a pelle d'ossa. Rifiutai qualsiasi cura medica o altro aiuto proveniente da persone per sottomettermi al solo comando del nostro Signore Dio. Quando dopo un anno mi rialzai il mio corpo era guarito. Dunque egli sperimentò direttamente la guarigione. Con il suo stesso corpo aveva sperimentato che Dio può aiutare anche quando gli uomini non possono più farlo. In tal modo poté più tardi affermare con totale convinzione Non esiste l'inguaribile. Dio è il più grande medico. Periodo scolastico e praticantato Bruno non partecipò mai alle furiose risse fra i fratelli e i bambini del vicinato ma spesso i ragazzi si prendevano gioco di lui. A volte lo picchiavano per il solo fatto di essere diverso da loro. Un suo fratello gli spaccò una volta il setto nasale e gli invece non picchiò mai nessuno. Frequentò la scuola per sei anni la durata di allora della scuola elementare. A causa della malattia perse comunque più di un anno di scuola. Dopo le elementari frequentò una scuola commerciale. Dopo due anni e mezzo sotto le insistenti pressioni del padre fu costretto ad abbandonarla. Il padre era muratore e voleva che anche suo figlio apprendesse un lavoro da artigiano e volle che imparasse il mestiere di carpentiere ma neppure in questo caso terminò la sua formazione. Tre mesi prima della conclusione del suo tirocinio la ditta nella quale svolgeva l'apprendistato dovette chiudere. Nel difficile periodo del dopoguerra non c'erano sufficienti commissioni. così Bruno si trovò senza alcun diploma o mestiere tra le mani ma semplicemente sulla strada. Negli anni seguenti Bruno fece i più disparati lavori intraprese un lavoro autonomo aprendo un mobilificio lavorò in seguito al porto alla posta in una fabbrica di cioccolato e come elettricista così si espresse una volta parlando di quel periodo. Io ero particolarmente portato per un lavoro che mi permettesse di conoscere e di apprendere come gli uomini di qualsiasi ceto sociale fossero e in qualsiasi situazione di vita si trovassero gestiscono ed organizzano la loro esistenza. Non cercavo solo i più poveri tra i poveri ma anche i più ricchi tra i ricchi per poter conoscere come vivono. Una vita comune come viene normalmente intesa cinema bar giochi a carte eccetera non mi interessava. capitolo secondo il periodo a Danzica e la guerra a 21 anni si sposò sua moglie non fu comprensiva con lui voleva averlo solamente per sé e considerava le guarigioni come stravaganze nel 1931 e nel 1939 nacquero i figli Harald e Gunther furono la sua gioia ma purtroppo tutti e due presto morirono sebbene già numerose persone avessero attraverso Bruno Gröning ottenuto la guarigione la moglie non credeva nelle facoltà curative di suo marito quando i figli si ammalarono li tenne lontani da lui e a sua insaputa li ricoverò in ospedale i medici purtroppo non poterono fare nulla Harald morì mentre era a Danzica mentre Gunther morì più tardi a Dillenburg tutti e due avevano solamente nove anni per Bruno Gröning fu un duro colpo anche molti anni dopo gli scendevano ancora le lacrime quando parlava di loro questo periodo fra le due guerre fu per Bruno Gröning un periodo di preparazione alla sua opera successiva egli fu costretto a fare molte amare esperienze per poter capire gli esseri umani in ogni loro situazione di vita e per imparare la compassione per le loro pene altre guarigioni in questo periodo avvennero molte guarigioni così scrisse suo padre più tardi io stesso fui colpito da un grave male tanto che i medici mi diedero per spacciato un breve trattamento di mio figlio fu sufficiente per mettermi di nuovo in perfetta salute un vicino spiegò avevo già visto gli effetti del potere curativo di Bruno Gröning durante il periodo del nostro avvicinato a Danzica Lanfuo io stesso venne liberato più volte dai dolori un'altra vicina raccontò conosco il signor Gröning dal 1928 dal tempo di Danzica mia città natale il signor Gröning si interessava già a quel tempo di spiritualità ed aiutò e guarì molte persone io sono a conoscenza di almeno 20 casi di successo potrei anche riportare parecchie testimonianze nelle quali il signor Gröning ha aiutato molti bambini che erano stati colpiti dalla poliomielite per esempio o che non potevano udire o vedere e in tutti questi casi ha avuto successo noi stessi e tutte le persone che lo hanno seguito ci troviamo ancora oggi dinanzi a un grosso enigma allora ci rompevamo il capo per capire come tutto ciò potesse accadere un altro vicino scrisse più tardi un racconto dettagliato di questo periodo nel quale troviamo tra l'altro ciò che segue successe frequentemente che dovette rinunciare sia al sonno che al suo guadagno per lui esisteva solamente una cosa aiutare spesso già allora lo pregavano di recarsi dagli ammalati lo imploravano di recarvisi anche di notte non importava di cosa si trattasse lui non chiedeva mai un centesimo al contrario a volte era lui che dava a queste persone i suoi ultimi spiccioli perfino quando veniva ringraziato per i suoi favori rifiutava il denaro dicendo fra le altre cose che sarebbe stato più utile esprimere la propria gratitudine facendo del bene al prossimo in molte occasioni ebbi l'opportunità di accompagnarmi a lui così che mi potei assolutamente convincere del suo agire in tempo di guerra nel 1939 scoppiò la seconda guerra mondiale che fu un evento terrificante fu una guerra che si allargò a quasi tutta la terra e nella quale vennero uccisi molti milioni di persone nel 1943 anche Bruno Gröning dovette partire per fare il soldato ma ebbe delle difficoltà a causa di queste parole che voi mi mandiate al fronte o no non sparerò mai a nessun uomo non lo posso fare per questa dichiarazione volevano che venisse condannato a morte da un tribunale di guerra fu invece spedito al fronte dove i soldati si scontravano e combattevano contro i nemici anche in questo periodo il comportamento di Bruno Gröning fu caratterizzato dal suo desiderio più grande aiutare gli altri al fronte approfittò di ogni occasione per sostenere i suoi commilitoni e la popolazione in un villaggio russo per esempio diede la possibilità agli abitanti affamati di accedere alle provviste alimentari dell'armata più tardi durante il periodo di prigionia in Russia procurò i suoi commilitoni del vestiario del cibo e un alloggio migliore aiutò a guarire tantissime persone che presentavano edemi da denutrizione e che erano sfigurate per il gonfiore soprattutto al ventre nell'orrore della guerra non uccise mai al contrario aiutò moltissimo lontano dal paese natio nel 1945 quando la guerra terminò Bruno Gröning fece ritorno dalla prigionia Danzica però era occupata per cui non potei farvi ritorno ma arrivò a Dillenburg qui si costruì una nuova esistenza e fece sì che la sua famiglia lo raggiungesse dopo la morte del suo secondo figlio poiché la moglie gli proibiva qualsiasi attività di tipo caritatevole si separò da lei sentiva il dovere di trasmettere a tutti gli uomini la forza guaritrice di cui era in possesso e a tal proposito disse io non appartengo ai singoli uomini ma a tutta l'umanità agli inizi del 1949 andò nel bacino della Rur grazie ai racconti di alcune persone da lui guarite attirò sempre più l'attenzione della gente andò di casa in casa là dove occorreva dove gli ammalati imploravano il suo aiuto così incominciò ad operare in piccole cerchie fino al marzo del 1949 in seguito venne invitato a Hereford da un ingegnere che desiderava che incontrasse il figlio malato a he uno ative a a a a a Grazie a tutti.